Katy Perry e Orlando Bloom Questa coppia da favola di Hollywood è nota per il suo rapporto giocoso. Non hanno paura di mostrare l'amore che provano l'uno per l'altra. Ma cosa rende davvero speciale la loro relazione? A quanto pare, anche le superstar apprezzano un po' di felicità domestica. In una recente intervista, Katy ha rivelato un particolare sistema di ricompense che usa per motivare suo marito, Orlando. Si tratta di aggiungere un po' di pepe, sia in senso letterale che figurato. Il segreto di Katy ricompensa Orlando con una sorpresa speciale quando lui finisce le faccende domestiche. Non si tratta del solito regalo di ringraziamento. È qualcosa di un po' più... per adulti. Questo approccio giocoso alla vita domestica evidenzia la natura divertente della loro relazione. Rivela anche un'interpretazione rinfrescante della collaborazione e dell'uguaglianza in un matrimonio moderno. Katy e Orlando non solo condividono le faccende domestiche, ma trovano anche modi creativi per rendere ogni momento speciale. Che si tratti di cucinare insieme o di fare una passeggiata nel parco, ogni attività diventa un'opportunità per rafforzare il loro legame. Le festività e le occasioni speciali sono momenti in cui la loro creatività e il loro amore brillano ancora di più. Anche nei momenti di tranquillità trovano gioia nella semplice compagnia reciproca. Collaborano non solo nella vita domestica, ma anche nei loro progetti creativi, dimostrando che il lavoro di squadra è fondamentale. La loro dedizione non si limita alla loro relazione. Sono anche impegnati a fare la differenza nel mondo. Sostenersi a vicenda è una parte essenziale del loro rapporto, sia nelle piccole che nelle grandi cose. In definitiva, il loro segreto è semplice. Amore, rispetto e un pizzico di pepe. Un sistema di ricompense che non solo mantiene viva la scintilla, ma rafforza anche il loro legame ogni giorno. E così, Katie e Orlando ci mostrano che, con un po' di creatività e tanto amore, ogni giorno può essere speciale. Katie si è lasciata scappare il segreto del suo piccante sistema di ricompense durante un'apparizione nel famoso podcast Call Her Daddy. Durante l'intervista ha rivelato dettagli che hanno sorpreso molti dei suoi fan, mostrando un lato di sé che raramente si vede in pubblico. Questo non è il solito podcast per signore di mezza età. Call Her Daddy è noto per il suo approccio audace e senza filtri, che attira un pubblico giovane e dinamico. Il podcast è diventato un fenomeno culturale, affrontando temi che vanno dal sesso alle relazioni, fino alla crescita personale. La conduttrice, Alex Cooper, è nota per le sue conversazioni, schiette su sesso e relazioni. Con il suo stile diretto e la sua capacità di mettere a proprio agio gli ospiti, Alex ha creato uno spazio dove le celebrità possono parlare liberamente delle loro esperienze più intime e personali. Kathy, che non si è mai tirata indietro di fronte a una dichiarazione audace, si è trovata benissimo in questo contesto. La sua personalità vivace e il suo spirito libero hanno reso l'intervista particolarmente coinvolgente. Ha parlato apertamente delle sue esperienze, delle sue sfide e delle sue vittorie, offrendo un ritratto autentico di se stessa. Si è aperta sulla sua vita con Orlando, condividendo dettagli intimi sulla loro relazione. Ha parlato di come si sostengono a vicenda nei momenti difficili e di come riescono a mantenere viva la passione nonostante gli impegni lavorativi e personali. La loro storia d'amore è stata descritta come in un viaggio emozionante e pieno di sorprese. L'apparizione nel podcast ha offerto ai fan uno sguardo sulla dinamica giocosa della coppia. Katy ha raccontato aneddoti divertenti e momenti teneri che hanno fatto sorridere e commuovere gli ascoltatori. la loro complicità e il loro affetto reciproco sono emersi chiaramente dalle sue parole. La volontà di Katy di discutere della loro vita personale in una sede così pubblica la dice lunga sulla complicità che c'è tra loro. Ha mostrato una grande fiducia nel loro rapporto e una sicurezza che ha ispirato molti. La sua apertura ha anche permesso di vedere quanto sia importante per lei la trasparenza e l'onestà nelle relazioni. Mette anche in discussione le idee tradizionali su ciò che è considerato appropriato condividere promuovendo un dialogo più aperto e onesto sulle relazioni. Katy ha dimostrato che parlare delle proprie esperienze può essere liberatorio e può aiutare gli altri a sentirsi meno soli nelle loro sfide. La sua apparizione su Call Her Daddy è stata un esempio di come le celebrità possano usare la loro piattaforma per promuovere conversazioni significative e autentiche. La rivelazione della tabella dei lavori domestici di Katy ha acceso una conversazione sulla divisione dei compiti nelle relazioni. La cantante ha condiviso con i suoi fan come lei e il suo partner l'attore Orlando Bloom gestiscono le faccende domestiche in modo equo e divertente. Non è un segreto che prendersi cura della casa può essere una sfida soprattutto con carriere impegnative. Le celebrità nonostante la loro vita glamour affrontano le stesse difficoltà quotidiane di qualsiasi altra coppia. La gestione delle faccende domestiche può diventare un compito arduo quando si cerca di bilanciare il lavoro la famiglia e il tempo personale. L'approccio di Katy e Orlando per quanto non convenzionale sottolinea l'importanza della responsabilità condivisa. Hanno creato un sistema che non solo divide equamente i compiti ma li rende anche un'opportunità per trascorrere del tempo insieme. Discutono e pianificano le faccende domestiche come una squadra dimostrando che la collaborazione è la chiave per una vita domestica armoniosa. Inietta anche una dose di umorismo nella realtà quotidiana della vita matrimoniale. Katy e Orlando trovano modi per rendere le faccende domestiche meno noiose e più divertenti trasformando le attività quotidiane in momenti di gioco e risate. questo non solo allevia lo stress ma rafforza anche il loro legame. Questo approccio giocoso alla vita domestica non sminuisce l'importanza di questi compiti al contrario dimostra che anche le attività più banali possono essere significative se affrontate con il giusto atteggiamento. Katy e Orlando mostrano che prendersi cura della casa è un atto d'amore e di rispetto reciproco al contrario evidenzia l'impegno della coppia a sostenersi a vicenda e a trovare la gioia nelle piccole cose ogni gesto ogni compito completato insieme diventa un simbolo del loro impegno reciproco la loro capacità di supportarsi l'un l'altro nelle faccende quotidiane riflette una profonda comprensione e rispetto reciproco è un bel promemoria del fatto che anche nel bel mezzo di vite frenetiche un po' di risate e creatività possono fare molto le piccole gioie quotidiane come ridere insieme mentre si pulisce la casa possono avere un impatto enorme sulla qualità della vita e sulla felicità di una coppia Katie e Orlando ci ricordano che l'amore e la felicità si trovano spesso nelle cose più semplici e nei momenti condivisi Katie e Orlando hanno dato il benvenuto alla loro figlia Daisy Dove Bloom nel 2020 diventare genitori porta inevitabilmente cambiamenti in una relazione e l'intimità è spesso un argomento con cui le coppie si trovano a fare i conti Katie ha parlato con franchezza delle sfide di affrontare questo nuovo capitolo ha sottolineato l'importanza della comunicazione e della pazienza mentre si adattano ai loro nuovi ruoli la volontà della coppia di riconoscere queste sfide piuttosto che evitarle entra in risonanza con molti neogenitori è un promemoria del fatto che va bene chiedere aiuto dare priorità alla cura di sé e permettere alla relazione di evolversi insieme alla genitorialità di riconoscere di riconoscere di riconoscere di riconoscere di riconoscere di riconoscere